La crisi del capitalismo è partita dall'eccesso di rapacità del capitalismo. Ora è vero che Confidusta ha un'aquila come simbolo e che è un noto rapace, però sentiamo. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio molto la Fondazione Italcementi, Carlo e Giampiero Pesenti per avermi invitato e devo dire che io partecipo molto ad assemblee, a convegni, a momenti di riflessione. Non lo dico perché sono qui, ma quello di oggi è molto bello. Abbiamo avuto interventi diversi, ma molti stimoli, molti cose su cui pensare. Allora, io cerco, riparto dalla domanda che mi fa Gianni Riotta, cerco di fare alcuni commenti su quello che ha detto Susanna Camusso e cerco anche ovviamente di dire qual è la visione in questo momento di Confindustria e come noi approccieremo la prossima trattativa che si apre dopo domani e quanto abbiamo davanti nei prossimi mesi. Ma Susanna dice che dobbiamo inquadrare tutti i ragionamenti da fare su liberalizzazioni, sulla riforma del mercato del lavoro che andiamo a fare su un discorso un po' più ampio che è la crisi del capitalismo per rapacità. Allora, io sono d'accordo con Farinetti quando dice che noi dobbiamo sempre riflettere sulle cose negative. Non sto qui a dire i vantaggi del capitalismo perché per noi sono molto ovvi e poi l'alternativa qual è? Il comunismo? No, cioè il capitalismo rimane, questo lo voglio dire con chiarezza, rimane la forma più democratica, più aperta che crea democrazia, crea come dire innovazione, creatività e opportunità. Su questo nessuno mi convincerà mai che c'è un modo diverso e migliore di organizzare la società e l'economia. Però non c'è dubbio che noi oggi dobbiamo fare riflessione su che cosa non è andato e non è un caso che proprio nei paesi di capitalismo più anglosassone, proprio negli Stati Uniti a Londra ci sono le grandi proteste oggi contro il capitalismo e noi dobbiamo ascoltarle queste perché non sono cose banali o cose al quale dobbiamo dire giovani che non sanno che cosa fare, che vanno in piazza, vanno a Wall Street a fare qualcosa. Non è così, io penso che noi dobbiamo riflettere su questo. Credo che sia vero, e questo non è tanto vero in Italia, dobbiamo essere molto chiari perché il nostro sistema bancario ha tanti difetti, ma non ha partecipato in modo pesante al gioco della costruzione di carta su carta, di meccanismi creati per poi scaricarli addosso alla gente, non ha partecipato a questa grande abbuffata non di innovazione finanziaria, perché l'innovazione finanziaria è un fatto positivo, ma del mettere in piedi una serie di strumenti che non avevano nessuna base, dove si illudeva la gente, si illudeva il fatto che un disoccupato americano poteva comunque aver diritto a comprarsi una casa senza reddito e senza nulla, cioè cose, e questo poi venivano creati dei prodotti, venivano rivenduti con grandi guadagni, poi ancora rivenduti, cioè tutte cose che conosciamo. Quindi che ci sia stato un eccesso, e c'è tuttora perché non è risolto, un eccesso di finanziarizzazione con strumenti appunto di questo tipo, perché ripeto, io sono una che pensa che l'innovazione nella finanza è comunque un fatto positivo, come l'innovazione nell'industria è un fatto positivo, ma questa non è innovazione, questo è imbroglio, quindi che ci sia stato un fenomeno di questo tipo è vero, la grande crisi dal mio punto di vista non ha portato a prendere decisioni sufficienti per evitare che questi meccanismi rimangano, si possano ripresentare, anzi in parte già ci sono, quindi questo è un tema aperto, non abbiamo tempo oggi per svilupparlo, ma questo tema qua è un tema vero, è un tema su quale dobbiamo riflettere. Io credo che però, e qui voglio venire anche al tema di cui parliamo oggi, però se noi guardiamo il capitalismo del nostro paese, è un capitalismo diverso, dobbiamo fare molto, dobbiamo fare di più, abbiamo tanti difetti, di questo poi parlerò molto brevemente, però è un capitalismo diverso, perché è un capitalismo fatto, lo sappiamo bene, prevalentemente di piccole e medie, anche medio-grandi imprese molto radicate sul territorio, dove la logica che diceva prima Farinetti, dove il considerare il proprio lavoratore parte integrante, non dico della propria famiglia, ma certamente parte integrante del successo della propria impresa è il nostro DNA, su questo non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere discussioni su questo tema qua, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più, abbiamo anche noi un sacco di pecore e zoppe, come ci sono in tutte le famiglie, però se guardiamo l'insieme del nostro sistema industriale, il nostro sistema capitalistico, è fatto fondamentalmente da imprese che hanno questo tipo di approccio, un approccio di vicinanza ai propri lavoratori, un approccio di vicinanza al proprio territorio, un approccio in cui la responsabilità sociale di impresa è sentita come uno degli elementi fondamentali, quindi ci sono tanti difetti, però mi pare che nel nostro paese il tema del capitalismo rapace, del capitalismo finanziario che ha annullato tutto, non mi pare uno dei temi che è alla base dei problemi. Detto questo, certamente, e voglio subito affrontare questo tema, noi abbiamo delle cose da fare, perché la nostra industria, partiamo nel dire sempre però anche le cose positive, la nostra industria ha dei problemi, però la nostra industria è ancora un asset importante di questo paese, noi abbiamo il secondo, noi siamo la seconda potenza manufatturiale industriale d'Europa, siamo la settima potenza industriale del mondo, eravamo la quinta fino a poco tempo fa, dopo la crisi siamo diventata la settima, abbiamo ancora una capacità di esportazione molto importante, siamo leader in molti settori e in molte nicchie, in Italia, lo sapete bene, l'industria crea il 22% del valore aggiunto, dà valore al 28% di occupazione, contribuisce al 78% delle esportazioni, attenzione, se noi non avessimo questa capacità di esportazione, noi non avremmo i soldi per comprarci il gas, l'energia, avremmo, come dire, una situazione drammatica, questo noi lo sappiamo molto bene. Quindi noi abbiamo un'industria che ha ancora delle carte da giocarsi e l'industria in questo paese è fondamentale, non lo dico perché sono un industriale o perché sono, come dire, presidente di Confindustria, ma l'industria è la parte ancora migliore di questo paese, cioè noi è lì che abbiamo ancora la forza, dobbiamo migliorare i servizi, dobbiamo fare molto anche su altre cose, ma è lì che ancora noi abbiamo una capacità di competere in modo forte. Certo non basta, le sfide che abbiamo davanti sono molto forti, su questo Onesi vorrei solo dirti una cosa, io penso questo, che se noi avessimo ragionato, ma so che non è questa la tua idea, ma la voglio solo esprimere per come la vedo io, se noi fossimo sempre rimasti a mercati piccoli, perché tu hai parlato giustamente della globalizzazione, ma prima della globalizzazione avevamo i mercati locali, nel passaggio dai mercati locali ai mercati nazionali, molte aziende non ce l'hanno fatta, nel passaggio dai mercati nazionali ai mercati europei è successo uguale, nel passaggio ai mercati europei e ai mercati globali è uguale, però attenzione perché l'apertura progressiva dei mercati porta a innovazione tecnologica, porta a concorrenza, porta a migliorarsi, certo ha dei costi, io sono d'accordo, cioè le varie aperture vanno gestite, vanno ragionate, non vanno lasciate, chi è bravo ce la fa, chi non è bravo si arrangia, però se noi fossimo rimasti appunto ai mercati rionali di cui facevi giustamente riferimento e del film fantastico di Troisi c'era come dire la esemplificazione, noi saremo una povertà micidiale, ricordiamoci che noi come dire abbiamo finita la guerra, eravamo un paese poverissimo, noi grazie anche a queste aperture, alle opportunità che i mercati ci hanno dato, siamo diventati appunto tra i paesi industriali più importanti, quindi io credo che le aperture dei mercati siano un fatto positivo, portano a dei problemi, sono d'accordo con te, ma l'alternativa non è quella di tenere i mercati chiusi, l'alternativa è ragionare, gestire e come in tutti i cambiamenti purtroppo ci sono delle persone, delle aziende che non ce la fanno, ma ci sono anche tante altre aziende che invece traggono la capacità di nuova ricerca e innovazione, di nuova linfa vitale, creano nuove occupazioni, c'è gente che grazie ai mercati internazionali si è creata nuove attività straordinari e ricordiamoci, questo è molto importante, l'ha detto prima il professor Bavanavetti, oggi nel mondo l'apertura dei mercati in Cina, in India, in Turchia, dappertutto in Brasile, ci sono delle classi medie che stanno crescendo in modo importante, voi sapete che la ricchezza si sta anche molto spostando di là, peraltro Sainesi non possiamo pensare onestamente di avere percentuali di crescita come quella della Cina, noi l'abbiamo avuta negli anni 60, quando venivamo dall'essere un paese molto povere, adesso quei tipi di crescita ce li hanno in quei paesi, certo possiamo fare molto di più di quello che stiamo facendo adesso, però ecco non possiamo pensare di avere un'Europa che cresce al 10%, ecco ma dico questo per dire come dire che insomma c'è molto spazio nel mondo per i prodotti italiani, guardate che questo noi abbiamo fatto come centro studio di Confindustria, mille studi, ma qui in questa sala ci sono moltissimi imprenditori che lo sanno, più noi apriamo i mercati, certo ci sono dei problemi, più questi paesi in cui si aprono i mercati che prima non erano parte della globalizzazione cresce una classe media, più questa classe media ha voglia di nuovi prodotti e guardate che c'è molta voglia di made in Italy, ma non inteso come l'agroalimentare, come l'abbigliamento, come i mobili, c'è molta voglia anche di elettronica italiana, di meccanica italiana, di precisione, di tanti, quindi io credo che questo tema è importante che noi ce l'abbiamo sempre presente, perché se noi torniamo in una logica diversa, torniamo a una logica di protezione, di conservazione, di assistenzialismo che è il nemico peggiore che il nostro paese ha su questo torno molto brevemente e quindi stiamo sempre molto attenti su questo tema, ma e chiudo questa parte, ci tengo a dire che noi come Confindustria in questi anni e sono sicuro che continueremo a farlo, abbiamo molto riflettuto anche su noi stessi, noi abbiamo fatto una cosa che secondo me è molto importante, noi proprio durante la crisi abbiamo detto qua nessuno sa esattamente come superare la crisi, proviamo ad ascoltare gli imprenditori più di successo che abbiamo in Italia, e non sono solo i grandi, ne abbiamo sentiti di piccoli, di medi, di grandi, di grandissimi, diciamo multinazionali, italiani, di tutte le topologie, abbiamo cercato di capire come questi imprenditori di successo fanno le proprie strategie aziendali, come hanno pensato di superare la crisi, come stanno ragionando, e ne è venuto fuori uno spaccato straordinario, ha ragione Barbara Navetti, è difficile parlare del sistema imprenditoriale italiano con un unico aggettivo, abbiamo situazioni molto diversificate, ma c'è una parte, quell'un terzo, di cui parla Barbara Navetti, che è molto interessante da studiare, molto bello da vedere, noi abbiamo per esempio ragionato, e qui viene fuori questo spaccato molto chiaro, tutti gli imprenditori sentiti, e parliamo di alcune centinaia, ci hanno detto che la differenza rispetto al passato, oggi per loro non è il core business inteso come settore merceologico, per loro oggi la vera forza è la competenza, allora io faccio un esempio, la mia cosa forte non è i tubi su cui siamo forti, ma è la capacità di lavorare l'acciaio, allora da quello passo dall'acciaio al carbonio all'acciaio inossidabile, passo poi allo zincato, cioè ognuno si sta lavorando sulla propria competenza distintiva, sta ampliando la gamma di prodotti, non in una logica di diversificazione totale, ma andando a prendere settori diversi, ognuno di noi, ecco questo è abbastanza diverso da quello che diceva prima Barbara Netti, noi ascoltando questi 500 imprenditori di successo abbiamo capito che molti di questi imprenditori dopo una logica in cui hanno come dire lasciato pezzi di valore aggiunto, diciamo le hanno messe fuori dall'azienda, oggi se ne stanno rimpossessando, perché il controllo della qualità, il controllo delle tue materie prime da una parte, quindi integrandosi a monte, il controllo diretto dei mercati diventa un fatto molto importante, abbiamo per esempio capito da questi imprenditori il successo che molti stanno cercando di avere presa diretta sui mercati, prima si esternalizzava anche questo, oggi molti stanno ragionando direttamente su come conoscere nuovi mercati e questo, e chiudo su questa parte, molti ovviamente stanno andando all'estero, non è la logica della delocalizzazione, nessuno, nessun imprenditore italiano oggi va a investire all'estero per cercare costo del lavoro più basso, non esiste questa roba qua, è stata fatta prima, oggi si va a investire all'estero perché si va a intercettare nuova, come dire, nuova domanda all'estero e spesso si va là per quello che diceva prima Rajan, perché tu devi andare là a capire che cosa vogliono i cinesi, da qui fai fatica a capirlo, da cosa vogliono gli indiani, devi andare là e capire perché se tu ragioni da qui su quello che loro vogliono, non sempre ce la fai, oltre al problema del costo del trasporto, quindi, e chiudo su questo, noi stiamo ragionando moltissimo su come rafforzare la nostra capacità competitiva, perché questo è elemento fondamentale, noi sappiamo che un pezzo della crescita viene da noi, dalla nostra capacità di reinventarsi, di essere sempre innovativi, di distribuire, come diceva prima Farinetti, la creatività ovunque, quindi una riflessione molto forte sempre su questa c'è, ma non basta, e questo è evidente, io credo che sia importante anche che il paese cambi, cioè tutto il paese deve essere improntato a maggiore capacità di fare della creatività, dell'innovazione, la grande forza che poi dà ottimismo, dà speranza e dà possibilità di andare avanti. E allora che cosa sono le cose da fare? Il riparto da quello che diceva prima Susanna Camusso, io sono d'accordo e Confindustria su questo, lei lo sa bene, si è spesa molto, legalità, evasione da una parte, istruzione dall'altra, sono elementi fondamentali. Noi sull'evasione fiscale abbiamo sempre detto, abbiamo fatto anche delle proposte per ridurre ulteriormente l'uso del controllo, per avere maggiore tracciabilità, per avere una fotografia patrimoniale di quando tu presenti la tua situazione anche reddituale, perché è evidente che se un signore o una signora hanno patrimonio un anno da 100 mila euro e l'anno dopo lo presentano da 2 milioni di euro e in quell'anno hanno fatto una dichiarazione di reddit di 5 mila euro, come dire, è abbastanza evidente che c'è un problema di visione. Quindi su questo noi siamo totalmente d'accordo, sul tema della legalità non voglio ripetere cose che sapete ma noi abbiamo fatto del tema del rispetto della criminalità, di non avere nessuna contiguità di nessun tipo, col tema della criminalità organizzata abbiamo fatto un tema molto importante, è partito dalla Sicilia, è andato avanti, hai ragione Susanna nel ricordare che nei momenti di crisi e nei momenti di credit crunch, quando le aziende non sanno come pagare l'insinuazione di capitali della criminalità organizzata nelle aziende normali, legali, è un problema molto serio che non riguarda solo il Mezzogiorno d'Italia ma riguarda anche il Nord Italia. Quindi noi su questo ci siamo, sull'istruzione lo consideriamo una delle nostre mission fondamentali, quindi se si tratta di lavorare insieme su questi temi noi ci siamo e condividiamo che questi sono valori importanti sui quali ricostruire. Però non basta, se noi dobbiamo risolvere il problema della bassa crescita, se noi dobbiamo avere la capacità di competere in mercati aperti, se noi dobbiamo risolvere questo problema di scarsa competitività e di scarsa produttività che comunque abbiamo ed è molto chiaro e a me è molto chiaro che solo se noi risolviamo questi problemi noi possiamo ricominciare a crescere, a creare occupazione, ad avere nuove imprese e a dare speranza per i giovani. Noi dobbiamo affrontare con serietà anche gli altri temi perché altrimenti non ce la facciamo e su questo io credo che siamo dalla stessa parte. E allora, e voglio dire due cose su rispetto a quello che ha fatto questo governo, le liberalizzazioni sono sacrosante perché non è più possibile, io l'ho detto in tutte le assemblee, l'ho detto anche qui tante volte, non è più possibile che ci sia un pezzo di mondo che sono le imprese che stanno sul mercato internazionale con i propri lavoratori che, come dire, combatte ogni giorno e ad ogni giorno rischia di fallire, che sta lì. E da un'altra parte c'è un altro pezzo di mondo che sono coloro che appunto vivono di tariffe minime, di privilegi e di protezione che scarica su quell'altro pezzo eccesso di tariffe, eccesso di costi, eccesso di inefficienza. Questa roba qua non si regge più e allora le liberalizzazioni sono sacrosante perché liberano energia, perché liberano come dire situazioni di privilegio, perché smettono di avere questo dualismo che non sta più in piedi e allora secondo me è molto giusto ed è molto giusto che si siano toccati tutti perché se tu tocchi solo una categoria e non le tocchi altre giustamente si lamentano tutte le altre, ma qui il governo sostanzialmente le ha toccate tutte, si potrà fare meglio, si può fare di più, per carità, però per la prima volta c'è un disegno complessivo di liberalizzazioni che Confindustria chiede da sempre e vedrete, io di questo sono convinta, magari non nel brevissimo periodo ma nel medio periodo questa cosa rimetterà in moto energia, rimetterà in moto merito perché a questo punto tutti saremo uguali, chi è capace di stare sul mercato sta sul mercato, sia esso un professionista, un farmacista, un imprenditore industriale, chi non è capace non può stare lì, non può essere privilegiato, non può essere coperto e quindi io credo che questo tema delle liberalizzazioni è un tema importante, fondamentale che finalmente è stato portato avanti, ci saranno gli strilli, abbiamo già visto tante categorie che hanno deciso di strillare e lasciamoli strillare, l'importante è che il governo vada avanti con la barra dritta, non si faccia influenzare da nessuno e percorra questa strada che è una strada assolutamente fondamentale. Sul tema dell'intervento pubblico in economia di cui parlava prima Susanna, io guarda Susanna, su questo so che è un punto sul quale non la pensiamo nello stesso modo, io sono terrorizzata all'idea che sia lo Stato, che sia un funzionario o anche solo un ministro o anche il primo ministro a decidere questo settore è un buon settore, questo settore è un cattivo settore, no abbiamo già avuto queste cose in Italia nel passato e hanno prodotto dei disastri, quindi io penso che invece deve essere il privato, ovviamente lo Stato deve mettere in condizioni tutti i settori, tutte le aziende di poter competere, quindi dobbiamo lavorare su istruzione, su forma fiscale, su liberalizzazioni, dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di competere, ma io sono terrorizzata all'idea che ci sia qualche funzionario da qualche parte che dice questo settore è un buon settore su cui investire, questo settore è un cattivo settore su cui investire, no, i settori possono essere tutti settori buoni, l'importante, noi sapete che anche la logica del settore ormai è superata, cioè ci sono, noi abbiamo aziende che nello stesso settore vanno benissimo, che hanno una componente come dire di qualità, di servizio molto maggiore di altri, quindi anche questa separazione tra settori è una cosa che nel concreto non c'è più, io penso che invece il governo e lo Stato deve fare la propria parte per rendere, come dire, la possibilità di competere migliore e ci metta nelle condizioni, come dire, di poter far bene, far bere bene il nostro Paese. Velocissima e chiudo, sulle cose da fare ancora e soprattutto sul mercato del lavoro, guardate io penso che le liberalizzazioni sono state portate avanti, noi dobbiamo secondo me fare un'altra cosa molto importante, dobbiamo procedere su questo tema delle semplificazioni, dobbiamo riprendere a investire, su questo sono d'accordo, devo dirvi che in questo provvedimento c'è anche una parte interessante sulle infrastrutture, però bisogna fare ancora di più, bisogna ragionare anche sulla ricerca, sull'innovazione, insomma ci sono ancora tante cose da fare, ma non c'è dubbio che abbiamo cominciato a prendere una strada positiva. Due ultime parole chiudo sul tema del mercato del lavoro. Noi, io l'ho detto varie volte, ci approcciamo a questa trattativa in modo molto serio, in modo molto, come dire, responsabile, perché sappiamo che stiamo facendo questo lavoro in un momento difficilissimo della nostra economia, perché noi abbiamo davanti un anno di recessione, abbiamo davanti un problema molto grosso, abbiamo tante aziende che hanno difficoltà e quindi abbiamo tanti problemi di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, alcuni l'hanno già perso, quindi noi approcciamo questo tema senza in teologia, con molto pragmatismo, con la logica e l'obiettivo di fare un accordo serio e cercheremo di farlo. Io penso che per quanto riguarda il mercato, diciamo, la flessibilità in entrata, noi dobbiamo, dove ci sono degli abusi li dobbiamo combattere, allora se abbiamo troppe finte partite IVA in Italia combattiamole, però stiamo attenti a ridurre potenzialità di lavoro per giovani e donne, stiamo attenti a toccare flessibilità in entrata che abbiamo messo in piedi in questo periodo, contratte a termine, part time, lavoro a domicilio, tutte cose che, come dire, servono, quindi se ci sono degli abusi, se ci sono degli eccessi, noi ci siamo, attenzione, perché l'obiettivo di questa trattativa deve essere quella di aumentare la crescita e di aumentare il tasso di occupazione che in nostro Paese è molto, come dire, è molto basso, quindi noi siamo d'accordo col sindacato, investiamo sull'apprendistato, investiamo su alcune forme particolari, stiamo attenti a non distruggere quello che abbiamo messo in piedi fino adesso. Sugli ammortizzatori sociali noi pensiamo che noi abbiamo un sistema abbastanza interessante, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo evitare che ci stia della gente che sta in cassa integrazione in mobilità per 6-7 anni, dobbiamo cercare di rimettere le persone più velocemente possibile nel mercato del lavoro, creando nuove figure, aiutandoli a formarsi ed andare avanti. Sul mercato, sulla flessibilità in uscita, voglio dire una parola molto chiara su quella che è la visione degli imprenditori e su questo chiudo. Guardate, io penso che, quanto diceva prima Farinetti, nelle imprese serie è molto chiaro, la nostra grande forza sono i nostri lavoratori, su questo non ci sono dubbi, o con qualsiasi imprenditore serio con cui parlo, questa cosa è molto chiara. Quindi noi non vogliamo licenziare i nostri lavoratori, noi i nostri lavoratori ce li teniamo stretti perché sappiamo che grazie a loro noi possiamo competere. Noi c'è una sola cosa che vogliamo fare, vogliamo poter insieme al sindacato gestire ristrutturazioni, se abbiamo un prodotto che non può più stare sul, non ha più senso di essere, dobbiamo poterlo chiudere, dobbiamo poter chiudere quella linea produttiva e aprirne un'altra e su questo abbiamo tanti accordi fatti, si tratta di farli bene perché questi cambiamenti saranno molti e guardate lo dico con molta chiarezza sapendo che è una frase difficile da dire, però lo voglio dire, è l'unica cosa che vogliamo fare e questo è uscito in tutti i dibattiti che abbiamo avuto tra di noi, non è certo quello di licenziare i nostri lavoratori, ma avere anche lì un discorso di merito. Noi abbiamo in alcuni casi assenteisti cronici, gente come dire che non lavora, che ammazza il clima del lavoro, allora noi vogliamo solo poter evitare che ci siano situazioni di questo tipo, ma credo che un sindacato moderno, attento e riformista come sono sicura sarà al tavolo su questo tema non può che essere d'accordo con noi. Quindi e chiudo, noi andremo a questa trattativa con grande senso di responsabilità, io sono fiduciosa e sono anche dell'idea veramente che nonostante le grandissime difficoltà questo Paese ha ancora una grande forza, questo Paese ha imboccato come diceva prima Farinetti una via nuova, stiamo finalmente facendo quelle riforme che per tanti anni non abbiamo fatto, siamo tutti attenti, siamo tutti appassionati, innamorati di questo nostro Paese, quindi lavoriamo tutti con grande senso di responsabilità. Grazie. Grazie.